Nei giorni scorsi, sull'onda emotiva dettata dall'emergenza coronavirus, i supermercati, soprattutto tra lunedì e martedì, sono stati letteralmente presi d'assalto dalla clientela. Una corsa all'acquisto spasmodica, di incontrollata, di genere alimentari principalmente di prima necessità, che ha messo sotto stress tutto il sistema, operatori, esercenti, personale addetto, nonché, come ci hanno riferito gli stessi gestori, anche il meccanismo degli approvvigionamenti. Sull'onda di questa ingiustificata, onda anomala di acquisti, le associazioni di categoria invitano alla calma e a non farsi prendere da acquisti compulsivi irrazionali. Non c'è motivo di questa corsa all'acquisto, in quanto la merce non scarseggia, ci dicono, e non ci sono emergenze alimentari in corso, secondo i responsabili locali della CNA. Volevo tranquillizzare i cittadini di Fano, che sono stato contattato da alcuni operatori commerciali del settore alimentare, che i prodotti alimentari, sia freschi e in scatola, ma i prodotti alimentari in genere, presso i magazzini sono a disposizione, quindi evitiamo le corse alla compera, evitiamo di farne corse dentro supermercati, perché sia la roba fresca, sia tutti i generi alimentari, il latte, il zucco, i generi alimentari primari, sono a disposizione, quindi camion, i mezzi arrivano tranquillamente, quindi evitiamo situazioni di difficoltà, tra virgolette anche situazioni di panico, ma stiamo tranquilli perché nella nostra città non si verificano crisi di scorte alimentari, anzi, viviamo questo periodo delicato con tranquillità e con serenità, perché nel supermercato, nell'alimentare vicino a casa, nel negozio di prossimità, i prodotti sono a vostra e anche a mia disposizione, quindi è una città che la crisi del virus la deve vivere con tranquillità, soprattutto anche dal punto di vista psicologico, anche per quanto riguarda, come dicevo, le scorte alimentari.